Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e ben ritrovati all'approfondimento. Il sogno che diventa realtà, anche e soprattutto nella Formula 1. Un sogno che corre veloce ed è targato Schumacher, un nome che sfreccia di padre in figlio per tornare ad appassionare il circus che verrà. È ufficiale. Dal 2021 uno Schumacher si rivedrà in pista nella massima serie della velocità, a nove anni di distanza dal Gran Premio del Brasile 2012, ultima gara iridata di papà Michael. A raccogliere la pesantissima eredità sarà il giovane Mick, già campione della Formula 3 e vicinissimo al trionfo iridato in Formula 2, che dalla prossima stagione riporterà il cognome della leggenda in pista. Lo farà non solo grazie alla Haas, che gli ha liberato un posto, ma soprattutto grazie alla Ferrari, che con la sua Academy lo ha aiutato a crescere in fretta per poter seguire a dovere le orme del campionissimo della scuderia di Maranello. Un assaggio di un 2021 della Formula 1, che si annuncia così davvero avvincente, accattivante, lo si avrà poco prima di Natale. Schumacher Junior debutterà con la sua nuova squadra nell'ultimo fine settimana del Mondiale di Formula 1 2020. Il 21enne pilota tedesco, che attualmente corre in Formula 2 con la prema, sarà al volante della Haas WF20 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi e continuerà ad essere protagonista con il team statunitense anche nello Young Driver Test, in programma martedì 15 dicembre, sempre sulla pista di Yas Marina. Mick Schumacher seguirà le orme dei compagni dell'Accademia Rossa. Gilles Bianchi e Charles Leclerc, che arrivarono in Formula 1 dalla serie cadetta per farsi le ossa in un team cliente della Ferrari, la Morussia con il pilota francese, la Sauber nel caso del Monegasco. Come per Bianchi e Leclerc, l'obiettivo di FDA per Mick è quello di permettergli di maturare e crescere per poter un giorno farlo salire su una monoposto della Ferrari. Il tedesco, infatti, resta parte della cantera di Maranello ed è legato alla Ferrari da un contratto a lungo termine. Hanno avuto fiducia in me e mi hanno messo in condizione di esprimere al meglio il mio potenziale. Le prime parole di Schumi Junior da futuro pilota della Haas. Ho sempre creduto che sarei riuscito a realizzare il sogno di arrivare in Formula 1, ha detto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e non vedo l'ora di mettermi al lavoro con la mia nuova squadra. Prima di potersi concentrare unicamente sulla grande avventura della Formula 1, Mick è però chiamato a concludere al meglio il campionato di Formula 2 che sta affrontando con il team Prema. Il tedesco, con un round ancora da disputare in Bahrain questo weekend, in concomitanza con la Formula 1, guida con 14 punti di vantaggio sul compagno di Accademia, Callum Eliott, e 43 sul russo Nikita Mazepin. Fino a questo punto, nella stagione 2020, Mick ha conquistato tre vittorie e otto podi, dimostrandosi il pilota più costante del campionato. Siamo lieti di annunciare che Mick Schumacher farà il suo debutto in Formula 1 la prossima stagione, correndo con una squadra, la Haas Formula 1 Team, che ha una relazione forte e ormai consolidata con la scuderia Ferrari. Mick, ha detto Mattia Vinotto, team principal della scuderia di Maranello, è un giovane di grande talento e nel team americano avrà la possibilità di crescere in maniera graduale.